più grande per il Dio che fa bella e buona ogni cosa e vogliamo accogliere una marcia bellissima che si chiama la piccola marcia, la piccola marcia, marciatori, 42 marciatori che arrivano da Perugia e arrivano con il desiderio profondo di entrare in Porziuncola e di godere della consolazione di Dio. Ecco fate questi ultimi passi, questi ultimi metri prima della Porziuncola stando certi che sia...